Nooo! Mai nai, mai nai! Se Echo 2 riesce a rimanere in quota? Reganero! Recibidiamo! Figlio di puttana, non posso pregare... Al capo Oxana! Nooo! 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 Buon salve a tutti ragazzi, un saluto a Matt e bentornati su Nerd is the Way, bentornati sul mio canale, bentornati con la nostra serie di supporto, dedicato alla saga di Halo, The Master Chief Collection, in questo caso con il prosieguo della nostra campagna di Halo Reach. Dunque, ci eravamo lasciati l'ultima volta con la liberazione di una città a seguito di uno scoppio totale di ostilità tra i Covenant e la flotta umana principalmente. i Covenant avevano portato ampi, ampi supporti e navi e portaerei sulla superficie di Reach a causa di un qualche legame con alcune rovine trovate sul pianeta, che sembrerebbero avere un profondo legame di credenze religiose con questa razza aliena. Quindi, bando alle ciance e buttiamoci nel nostro gameplay. Facciamo anche partire il nostro timer, non tutto è perduto, evacua i civili da una città occupata, tempo di rifornimento 20 minuti. Molto bene. Ok, ok, ok. Va bene. Qui è Kilo, dispatch. Tutte le squadre disponibili avanzino alla Traxxus Tower. Evacuazione imminente. Ricevuto, dispatch. La situazione della torre? Via libera. Evacuiamo questi civili prima che le cose cambino. Ricevuto. 4-0, chiudo. Ok. Stavo cercando per vedere un attimino se potevamo avere delle... delle armi magari trovate da qualche... qualche morto vario in giro, ma mi sa di no. Quindi forse ci dovremmo fare strada solo con la pistolina? Cosa non molto positiva, sinceramente. Ok. Eccoli là. Sono arrivati. Va bene. Partiamo e andiamo a salvarli. What? Li avevo visti. Che cazzo sono finiti? Li sono ritirati? Sì, mi sa che si sono ritirati li avevo visti però, eh. Facciamo un giro di qua, vediamo se di qua è aperto. No, mi sa di no. Come non detto, allora bisogna andare di qua. Romeo Company, attenzione, ci sono squadre suicide Covenant. Spero sia uno scherzo. Negativo. Tenete gli occhi aperti, soldati. Oh, cazzarola. Però, devo fare attenzione a spendere pochi colpi, eh. Perché mi sa che rischio di rimanere a secco se sparo così in maniera grossolana. Premi quattro per la visione notturna. Ok. Chilo due sei, qui chilo quattro zero. La Corvette Covenant ci ha scatenato addosso all'inferno. Fuoco di sbarramento uno, pericolo. È un ordine, passo. Ok, chilo quattro zero. Fuoco di sbarramento uno, a suo ordine. Ah, quindi aspettate. Posso anche evitare di... Fuoco, passo. Fuoco di sbarramento uno, via. Tenetevi gli elementi. Questi cazzi, ma questi qua sono tutti... Porca troia, quanti sono. Vedo un sacco di nemici. Ok. Posso ucciderli con due colpi. Cazzo, questi qua non sono... Nei kamikaze. Prezi. 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 Dov'è questo bastardo che è? Prezi. 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 Cambiamo l'arma, vediamo un po' cosa abbiamo. Eccoli qua. Oh oh. Merda. Ah, non l'ho visto. Cazzo. Porca vacca. Non ho fatto in tempo a usare lo scudo. Santo cielo, ma fanno malissimo. Ok, piano. Uff. Ok. Ok, bene. Ce l'abbiamo fatta. Ottimo. Chilo 4-0, richiedo fuoco di sbarramento 1. Negativo, corvette sempre in arrivo. Ricevuto 4-0, fuoco difensivo 2, via. Se facciamo attenzione dobbiamo riuscire a beccarli. Dannazione, come fermiamo quella cosa? Ottimo. Preso. Preso. Ok. Ottimo. Stavolta non ci siamo fatti fregare. Andiamo a prenderci anche un bel kit medico che non si disprezza mai. E mi sa che adesso possiamo anche togliere. Oh 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 oh. Sti cazzi! Sì, non avevo notato. Va bene. Andiamo a fargli il culo. Preso. Porca troia, però se anche evitate di mettermi in mezzo. Ok, questo mi piace. Ok, questo mi piace. Porto. Molto bene, mi piace. Dov'è l'altro? Ah, pensavo fosse un fucile a pompa. In realtà no. Ok. Va bene. Che cazzo è successo? va bene, andiamo. Ma non è solo un fucile. No, va bene. No, va bene. Ok, va bene. Non ho preso le due totale. Non lo lascerò nelle vostre... Preso. Molto bene. GG, mi piace, mi piace Andiamo anche un po' di munizioni Perché mi sono bloccato di preciso? Ah, perché c'è il civile Va bene, ok, andiamo Forza, facciamo entrare i civili Ottimo E andiamo A occuparci di tutti sti stronzoni Proviamo a prenderli dall'alto Molto bene Oh Evitata e ammazzati Proprio di ignoranza Come si deve fare Ottimo, ottimo Torniamo con il nostro fucile Eh, madonna Quanto cazzo ci vuole Devo fare io tutto il lavoro? Eh dai, su Santo cielo Ok Ok Perché si sta mettendo così tanto Ah Va bene Vediamo se arriva qualcun altro Vedete che mi ha riparo Nervi salti Dobbiamo difendere questa posizione Navette Atterrano nei cortili Attenti sui lati Dai che ce la facciamo adesso Dai che ce la facciamo adesso Grazie Grazie Ottimo Ottimo Preso 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 Mi piace un sacco quest'arma Mi piace davvero un botto Quest'arma Ok Bene Non è accessibile Bene Ottimo Andiamo a dargli una mano Allora Ok Non diamo oltre il triage Che figato lo voglio anch'io Lo voglio anch'io È bellissimo Che cazzo è che sparava Ok Andiamo avanti No Che figo È bellissimo Sè Ah Che figato Per far atterrare i mezzi D'evacazione Non sapevo che me la dessero Via Quindi dov'è che dobbiamo andare Giù di qua Ottimo Vediamo un po' Forse aspettate No Conviene andare di qua E poi da qua Fare No 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 Cazzo L'ho manca Ma porca Perché Ma no Ma dai Ma L'ho mancato davvero di qualche centimetro solo Scusate per il taglio Ma Ho avuto una chiamata E dovevo assolutamente Rispondere Perfetto Questo l'abbiamo risolto Ottimo Andiamo a occuparci Di questi qua Ok Tolto di mezzo Andiamo a togliere questo qua grosso Ok Perfetto Siamo riusciti Perfetto Ci siamo riusciti Forza Attenzione 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 Uff Mamma mia Ho preso Ok Mamma mia Ragazzi Che sudata Che sudata Uff Va bene Così siamo abbastanza tranquilli Abbiamo superato La vetta Oh Sì Grazie La cura Ci voleva proprio Porca Troia Facciamo riacquistare Lo scudo E cerchiamo di attaccare Uff Bene Ce l'abbiamo fatta Ottimo Ottimo Dovremmo essere abbastanza tranquilli adesso Sali a livello del tetto Sparta Ecco la piattaforma Zona est Della torre Dall'altra parte L'entrata è dall'altra parte Ok Dobbiamo andare da quella parte Quindi Direi che Forse Ci conviene Andare giù di qua Vediamo un po' Qua è aperto O no Allora Dobbiamo andare dove? Ah Forse è lassù Aspettate Forse bisogna andare lassù Esatto Immaginavo bene Oh Giochiamo così pesante? Va bene E adesso ci penso io Non ti preoccupare Appena la vedo Però devo cambiare arma Perché se no Non riesco A mirare Ok Ah Questo è quello da 30 Va bene Allora Prendiamo questo Dobbiamo distruggere Eccoli qua Va bene Va bene Presi A gruppi di 3 Molto bene Facciamo riprendere un attimo la L'armatura Va bene Oh Wow Ok Andiamo Ci penso io Facciamogli prendere Fuoco Preso Preso Ok Preso Riprendiamo munizioni E Via Molto bene Molto bene Proviamo a vedere se riusciamo a prendere qualcosa Direi che siamo a posto Sono al riparo Va bene Prendiamo questo dai Meglio Qua non abbiamo più nessun altro No Ok Ottimo Allora possiamo proseguire Facciamo il giro di qua Vediamo se riusciamo a passare No Speravo di riuscire ad aggirarli Ma mi sa che Non possiamo Ah Va bene Ok Preso Preso Dovremmo esserci Lol Si è sparata da solo Ok Ci siamo abbastanza Mi sa di si Piano Questo ha fatto parecchio male Va bene La granata è stata Ben piazzata Molto bene Oh Questo da dove cazzo esce Se volevi farmi incazzare Mi sparo Ottimo Ottimo Abbiamo un fiottio di gente Porca troia Da abbattere Conquistiamo la pattaforma D'atterraggio Ah cazzo Via 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 Non ho Assolutamente Armi Ok Molto meglio Va bene Va bene Andiamo Ne abbiamo due Da neutralizzare Ok Scusate ragazzi Per Le I tagli Di questo episodio Eh Quanto è lungo Sto corridoio Ok Ok Come vi dicevo Scusate per i tagli Di questo episodio Ma Non riesco ad avere Un attimo Tranquillo Di Gioco Vabbè Vabbè allora Sai che ti dico Visto che tu giochi Squark Gioco anch'io Spock Sto stronzo Boom Vola stronzo Vola Vola Piattaforma Sgombra Mandate i mezzi Di fuga Ok Ok Ottimo Scusate un attimo Ok Allora Tutto sommato E' andata per il meglio Facciamo atterrare I nostri E' un piacere volare con te Sparta Noi presiediamo la postazione Tu sali su quel falco Mezzi E saliamo Saliamo Sulla Nostro Buon falcon Credevamo fosse nostra Finchè non sono arrivate Quelle corvette La flotta è sparpagliata Sta ripiegando Abbiamo ricevuto Tutti ordine di evacuare Anche se Alcuni di noi Non va a genio Di lasciare un lavoro A metà Trasporto Il titolo Della missione Avrei voluto fare L'orologiaio Delta 1 5 Qui Evac dispatch Molto bella La linea della corvette Delta 1 5 Dispatch Squadrone Banshi in coda Fuoco nemico Ok delta 1 5 E poi Vede Il motore di sinistra È colpito Precipitiamo Prova ad atterrare Cosa? No Cavolo Quanti cazzo sono? No No Dai che riusciamo Cavolo Dai cavolo Guarda quanti ce ne sono Cazzarola No Porca puttana Mi sa che Rich non lo riusciamo a salvare Mi sa che stifetenti Conquistano Il pianeta Allora ragazzi A questo punto direi che ci possiamo salutare La città sta cadendo La città sta cadendo sotto ogni lato Santo cielo Non riusciamo assolutamente A riprendere la città E mi sa che se continua così E l'invasione sarà di così ampio spettro Probabilmente potremo anche arrivare a perdere Rich La situazione non è affatto delle migliori Però però dobbiamo aspettare il prossimo episodio Per poter vedere esattamente come andrà E se riusciremo a liberare la spiaggia E quantomeno a dare un colpo in risposta All'assalto dei Covenant Detto questo ragazzi ci vediamo questo giovedì con The Banner Saga Trilogy Venerdì con Europa Universalis 4 Con Ozukawa Idem lunedì Sempre con Europa Universalis 4 E infine Martedì prossimo Di nuovo Nuovamente con Halo The Master Chief Collection Detto questo Ciao a tutti ragazzi A presto